Ben ritrovati a tutti sulle frequenze di questo ciclo di Catechesi, sulla Divina Volontà e su un particolare Adamo e la vita nella Divina Volontà. Questa è la tredicesima puntata, oggi con l'aiuto del Signore faremo un volo con il Signore a comprendere un pochino meglio i danni fatti dalla trasgressione in senso proprio stretto e formale. Questa sera avremo la possibilità di focalizzare bene alcuni aspetti di Adamo e quindi poi vedremo che Gesù disponda, ci aiuterà anche a comprendere un po' meglio noi stessi, in particolare il diverso tasso di gravità che hanno le nostre uscite dalla Divina Volontà a seconda di quanto siamo consapevoli di esserne uscite fuori. Diciamo che è un po' quello che guida il testo che andiamo a leggere questa sera è il grande insegnamento di Sant'Ommaso d'Aquino, che dobbiamo sempre tenere presente, cioè che il peccato, proprio il peccato in senso stretto, si trova nella volontà. Che significa? Si trova in una volontà che sia cattiva e perché una volontà che sia cattiva deve essere consapevole che facendo una certa cosa sta formalmente opponendosi, andando contro la volontà di Dio. Ecco, questo perché più il nostro agire è di questo genere, più gravissime sono le conseguenze che produce e più assomiglia ai noi alla trasgressione delle trasgressioni, quella originaria, insomma, che fu quella di Lucifero. Noi sappiamo che il peccato degli angeli, sempre detto di Sant'Ommaso, è imperdonabile non dal punto di vista della Divina Misericordia, perché la Divina Misericordia non è incapace di perdonare alcun tipo di peccato, ma il problema è la situazione soggettiva degli angeli ribelli, che appunto per il tasso di adesione pienissima che la loro volontà depravata ha con quella scelta cattiva che hanno fatto, non se ne possono più ritrarre, non ne possono tornare indietro. E' terribile questa cosa, ma è così? Cioè, io ricordo di aver letto da qualche parte, insomma, da qualche libro, forse di qualche esorcista, insomma, molto probabilmente, perché poi purtroppo quando si leggono tante cose si fa fatica a ricordare in diretta le citazioni, però, per esempio, la situazione del diavolo è una situazione drammatica, cioè che se uno ci pensa, dire drammatica è dire poco, è proprio una cosa pazzesca, assurda, impensabile. Cioè c'è un essere che ha dichiarato guerra a Dio sapendo quello che faceva, conoscendolo tutte quante le conseguenze, e l'ha fatto lo stesso. Già per noi pensare a una cosa di questo genere è destabilizzante. Ma il problema è che adesso lui sta male, soffre, d'accordo? Soffre. E, come dire, se anche in linea teorica lui lo saprebbe, che solo in comunione con Dio starebbe bene, non lo può più fare. E quindi è condannato a continuare a fare male, su male, su male, facendo male al prossimo, e più male fa e più male sta, e non può tornare indietro. Cioè, qui si tratta semplicemente di inorridire, capite? Cioè, io ricordo, credo fosse negli scritti di Maria Valtorta, perdonate, faccio riferimento a queste cose, però consideriamoli come una sorta di meditazione personale, insomma, uno ci può anche pensare, no? Lì dice, e quando gli angeli videro quello che ha fatto Lucifero, dice, ma come può essere una cosa del genere? Potremmo fare una cosa di questo genere pure noi? Pazzesco. Dice, Signore, pietà, aiutaci. Capite? Quindi, viene un po' di, come dire, di preoccupazione, nel senso che Dio ce ne scampi liberi sul serio da tante cose, no? Certamente, anche pensando al dramma, no? Stasera prendiamo un po' una, una catechesi un po' drammatica, d'accordo? Che si colora dei tratti di una meditazione un po' dolorosa, no? Proviamo, facciamo una piccola pausa, prima ancora di leggere, non ho ancora letto neanche una virgola, no? Mettersi nei panni di Adamo, che ha combinato. Cioè, perché lui purtroppo, come vedremo che stasera, ha fatto una trasgressione, cioè lui sapeva che quella cosa non la doveva fare, perché Dio gli aveva detto di non farla. Cioè, poi vedremo tutto quello che poi ha visto dopo, adesso sto scritto, ci dirà tutto, cioè, allora, voi sapete che c'era un grande filosofo che nell'inizio del ventesimo secolo criticato per certi aspetti, no? Che diceva, era il teorico della filosofia dell'azione, Maurice Blondel, lui diceva, bisogna riportare l'azione, la filosofia nell'azione, perché lì si trova anche il centro della vita, no? diciamo che la sua speculazione, io l'ho letto, il suo best-seller, che è proprio l'azione, si riferiva proprio a questo punto, cioè l'azione determina un prima e un dopo che delle volte è irreversibile. Cioè, fatto il peccato originale, fatto il peccato originale, non fa più niente, cioè, capite? Noi siamo purtroppo abituati nel mondo di oggi, io come per esempio, ma è sbaglio a dire una cosa durante la catechesi, no? Poi devo andare a elaborare il video, il video lo prendo, lo taglio, lo coso, lo monto, lo correggo, no? Sto andando in diretta a Facebook, va bene, togliamo il video da Facebook, prendo il file, lo correggo, lo rielabbero, se dico qualche sciocchezza, non so se mi impazzisco, che ne so, se squilla al telefono, queste cose qui, e quindi lo aggiusto, quindi è successo una cosa, però più o meno io la posso aggiustare, ma in certe azioni non si può, non si può, pensiamo anche al dramma, io ci penso spesso, insomma, adesso non diciamo, tutti quelli che sono collegati in diretta staccano la linea, perché dice stasera, siamo al dramma di un'anima che muore e qualche istante dopo prende coscienza di essere dannata, situazione irreversibile, tutta l'eternità sarà così, insomma, ragazzi, cioè, allora, tutto questo, sapete che succede, figlioli megari, perché dico tante queste cose, perché a volte noi esseri umani siamo un pochino sconsiderati, la sconsideratezza, io ora comincio a averci qualche annetto, è un problema grosso, cioè nel senso che noi dobbiamo essere capaci di fermarci, pensare, ponderare, fare attenzione, essere anche, come dire, aperti, a volte recettivi, su tante questioni, non andare avanti come autotreni, è meglio una persona che si fa molte domande con poche certezze che una persona con troppe certezze ed è poco restia a farsi qualche domanda, ecco, capite, Adamo prima di fare quello che ha fatto doveva pensarsi cinquecento volte, d'accordo, e sarebbero state ancora poche, ecco, adesso passiamo alla lettura, perdonatemi insomma questa introduzione, ma la comprenderete perché il brano che leggiamo questa sera è drammatico, purtroppo, ecco, allora, Adamo quando fu creato, dice Gesù, fu la vera e perfetta immagine dei figli del mio regno. E lui se gli ribatte, e come mai, col sottrarsi Adamo dalla volontà divina, da tanta altezza precipitò tanto nel basso. e Gesù muovendosi nel mio interno mi ha detto figlia mia, come nell'ordine naturale, chi cade da un punto altissimo o perisce del tutto o rimane tanto sfracellato e deformato che gli riesce impossibile e le acquistate il suo stato primiero di sanità di bellezza, di altezza rimarrà un povero storpiato, cieco, e zoppo e se questo è padre uscirà da lui la generazione degli storpiati, dei ciechi, dei gobbi e degli zoppi così nell'ordine soprannaturale. Adamo cadde da un punto altissimo sì, ecco, sì, ok, volume 21, 8 aprile 1927 il brano che sto leggendo. Adamo cadde da un punto altissimo. Lui era stato messo dal suo creatore ad un punto tanto alto che sorpassava l'altezza del cielo. delle stelle, del sole. Col vivere nella mia volontà dimorava al di sopra di tutto, in Dio stesso. Vedi dunque da dove precipitò Adamo? Dall'altezza da dove cadde fu un miracolo che non perì del tutto. Ma se non perì il colpo che ricevette nella caduta fu tanto forte che fu inevitabile il non rimanere storpiato, sfracellato e deformato nella sua rara bellezza. Lui restò fracassato in tutti i beni, indolenzito nell'operare, intontito nell'intelletto. Una febbre continua lo debilitava, per cui affievolendogli tutte le virtù non sentia più forza a dominarsi. Il più bel carattere dell'uomo, il dominio di se stesso, era svanito e sottentrarono le passioni a tiraneggiarlo, a renderlo inquieto e mesto. e siccome era padre e capo delle generazioni, venne fuori la famiglia degli storpi. il non fare la mia volontà credono che sia cosa da nulla, invece la rovina totale della creatura. E in quanti atti in più di volontà propria commette, tante volte accresce i suoi mali, la sua rovina e si scava l'abisso più profondo dove precipitare. Questa è la prima parte, cominciamo a fare una pausa salutare. Ho ragione che è drammatico, d'accordo? Mi sembra altamente drammatico questo questo brano. Allora, faccio anzitutto notare terminologia cruda che Gesù usa, sfracellato, fracassato, storpiato. Insomma, sono frasi abbastanza abbastanza forti, no? Caduto da un punto altissimo. E qui l'immagine che fa, no? Cioè, se uno si butta di sotto dalla torre Eiffel, che ci resta per terra? A Roma dicono lo andiamo a raccogliere col cucchiaino. si dice così a Roma. Cioè, quindi dice ringrazia Dio che non è perdito del tutto. Cioè, quindi, questa fu proprio una tragedia, d'accordo? La tragedia originaria. Impossibile riacquistare lo Stato primiero di sanità, di bellezza e di altezza. Incredibile. Esce da lui, abbiamo capito, noi che questa sera abbiamo imparato che noi siamo la generazione degli storpiati. Ragazzi, mettiamoci l'anima in pace, noi siamo la generazione degli storpiati. E due volte lo dice il nostro Signore, eh, mica una volta sola. Venne fuori la famiglia degli storpi. Aggiunge più in basso. Generazione degli storpiati o famiglia degli storpi. Eh! Ed ecco che Gesù dice il non fare la mia volontà credono che sia cosa da nulla. E qui ci riporta immediatamente al dramma attuale. Cioè, non fare la divina volontà è una tragedia. è la rovina totale della creatura. Totale. E adesso poi vedremo, cioè, lo dice nella seconda parte, no? Ma è importantissimo per esempio che noi stiamo in cammino continuo e qui cito San Giovanni Paolo II mai sufficientemente ricordato specialmente in quella famosa enciclica che è La Verità di Splendor. Io quando la lessi la lessi credo in seminario o anche un po' prima perché prima che entrasse in seminario ma veramente fu un'illuminazione, no? Noi sappiamo che la volontà di Dio è una cosa oggettiva. Cioè, una cosa è bene o male attenzione da un punto di vista oggettivo cioè ciò che è bene e ciò che è male non lo stabilisco io io lo posso soltanto riconoscere come grandi filosofi classici la vetta fu il Sant'Omaso ma anche i greci c'erano arrivati perché anche Aristotele c'era arrivata questa cosa qui e non per niente Sant'Omaso è aristotelico cioè l'operazione del nostro intelletto è semplicemente riconoscere un dato che c'è già allora ma se io faccio una cosa che è oggettivamente sbagliata ed io però non la riconosco come tale o perché non me ne rendo proprio conto e questa è una delle cose più brutte che possa succedere assicuro chiunque ne abbia fatto esperienza una delle cose più brutte che possa succedere nella nostra vita almeno questo che parlo per l'esperienza mia personale è quando uno fa qualche cosa senza o rendersene conto o rendersene perfettamente conto oppure peggio ancora quando pensava di fare bene mi ha fatto male questa è una grossa croce che ci portiamo dietro che cos'è questo questo è l'intelletto intontito come si esce da questa situazione perché guardate che cosa succede se io faccio una cosa che penso che sia bene ma è male certamente non andrò all'inferno per questo lo vedremo subito nel proseguo del racconto d'accordo perché il signore non mi può condannare se lui sa che la mia coscienza non avverte pienamente la carica anzi addirittura è travisata che pensa al contrario d'accordo tuttavia però quelle azioni che io faccio come dice qui sono la rovina non fa niente che io le faccio con fin di bene ma quelle fanno male a me e intorno a me è un dramma questo è una tragedia rovina totale e quanti più atti di questo genere si fanno tanto più si accrescono mali e rovine noi stiamo tutti si dice una parola comune stiamo tutti rovinati e da dove viene il problema è che ci dovrebbe venire come dire sapete che la sacra scrittura parla del santo timore di dio no ecco la paura non è un buon sentimento però a volte insomma che uno gli venga un pochino di sana paura dei guai che può combinare sana paura di se stesso dico come i santi ci hanno avuto perché San Filippo Neri l'ho citato in un numero rivolti non è che senza motivo diceva signore tienimi le mani sulla testa perché Filippo si fa turco cioè aveva questa conoscenza sapienziale di se stesso che diceva ma io io ho paura cioè la Madonna Fatima ci ha anche insegnato a dire Gesù mio perdona le nostre colpe preservaci dal fuoco dell'inferno da cena mano perché qui stiamo rovinati stiamo allora sta situazione noi dobbiamo prenderne atto perché per riuscire a entrare a vivere nel mondo della divina volontà mio modestissimo parere occorre come dire una grande umiltà di cuore e di mente perché dobbiamo dare la possibilità al nostro Signore pur delicatamente pur prendendoci per mano ma di portarci dentro noi stessi e di farci conoscere anche tante cose di noi stessi che quando le conosceremo ci prenderà un colpo perché sono brutte anche se io non le conosco non le riconosco e non le sono mai andate a sfrugugliare o a cosare questo sarà un processo doloroso questo qui non è un processo bello ma salutare come dice Gesù quando era della passione dicevo quando stavo in croce non guardavo al dolore guardavo alle conseguenze positive questo dolore avrebbe condotto questo ci tocca a tutti quanti perché partiamo da una situazione ontologica come dire penalizzata perché siamo figli di Adamo siamo la famiglia degli storpi siamo la generazione degli storpiati attenzione lo siamo ma non ne siamo così sicuri perché molti pensano che va tutto bene che non c'è nessun problema che i problemi sono gli altri nella vita allora questo è un punto fondamentale e dobbiamo pensarci e dobbiamo soprattutto farci venire come dire un po' di sano timore di noi stessi sapete come prosegue la storiella di Maria Valtorta insomma sti angeli che rimangono sconvolti diciamo ma se Lucifero ha fatto questo qua siamo a rovinare se il numero uno il più bello degli angeli è caduto così in basso che facciamo qua allora a quel punto Dio fece loro vedere l'immagine di quello che sarebbe stata la Madonna e sapete da cosa furono colpiti gli angeli vedendola così umile e così perfetta diciamo ah meno male la sua umiltà di che c'è stare tranquilli e tanto è importante questa e se uno non è umile negli atteggiamenti perché purtroppo potrebbe essere superbo c'è un'umiltà che si può avere anche quando si è superbi negli atteggiamenti che è l'umiltà dell'intelletto che è quella disponibilità a mettersi in discussione e a beccare le giuste come dire suonate che il nostro Signore ci manda a tempo modo e forma opportuno dall'alto per portarci verso un cammino che non finisce difficilmente finisce capite si può stare come dire nella divina volontà anche quando senza l'intenzione se ne esce però certamente il nostro Signore vuole che noi ci stiamo sempre di più nella divina volontà non soltanto senza uscirne nell'intenzione ma anche senza uscirne nelle azioni capite cioè non fa niente che io non volevo fare niente di male ma non devo averlo fatto è che per questo dobbiamo accettare questa è una è una croce perché è una mortificazione continua continua e accettare di essere continuamente scalpellati limati suonati e strapazzati a volte dal cielo non c'è difesa se no che attenzione perché quando c'è queste cose attenzione ai complessi che arrivano delle vittime cioè ritorniamo alle catechesi che sono io per poter amare insomma il vittimismo ce l'hanno tutti con me e non ne faccio mai una dritta destra e sinistra no quindi coraggio spirito virile spirito buono niente di nuovo sotto il sole diceva Coelet cioè ho ho visto un'altra storpiaggine tra le cose che faccio tutto che ringraziamo nel signore perché almeno se la vedo può darsi che da oggi in poi cercherò di dargli una drizzata a questa altra storpiata insomma che che mi vada a ritrovare dentro me stesso quindi viviamo anche questa cosa con molta serenità con molta molta calma l'accordo perché il signore lo sa cioè il signore vede il nostro cuore vede anche lo stato della nostra coscienza no e ci fa camminare certo ci fa camminare noi camminiamo tanto di più quanto più il nostro cuore si si apre insomma no si dilata però delle volte il signore per farci l'aprire dilatare deve mandarci qualche bella croce fatta bene ecco perché quando arrivano le croci non ci lamentiamo ecco ma ringraziamo il signore d'accordo perché sono tutta salute bene volevo proseguire adesso a questo punto la lettura onde pensavo tra me ma se Adamo per una sola volta che si sottrasse alla divina volontà cadde così in basso e cambiò la sua fortuna in miseria e la sua felicità in amarezze ma che sarà di noi che tante tante volte ci sottraiamo da questa adorabile volontà bella domanda no ma mentre ciò pensavo di mio amato l'unico bene a soggiunto figlia mia Adamo cadde tanto nel basso perché si sottrasse ad una volontà espressa del suo creatore in cui veniva racchiusa la prova per provare una sua fedeltà verso colui che gli aveva dato la vita e tutti i beni che possedeva molto più che ciò che Dio richiedeva da lui di fronte ai tanti beni che gratuitamente gli aveva dato era che si privasse tra i tanti frutti che gli aveva dato di un solo frutto per amore di colui che tutto gli aveva dato e in questo piccolo sacrificio che Dio voleva da lui gli aveva fatto conoscere che non era altro se non che voleva essere sicuro del suo amore e della sua fedeltà Adamo avrebbe dovuto sentirsi onorato che il suo creatore voleva essere sicuro dell'amore della sua creatura si accrebbe la colpa perché colui che lo attirò è persuaso a cadere non fu un'estero superiore da lui ma un vile serpente suo capitale nemico la sua caduta portò più gravi conseguenze perché era il capo di tutte le generazioni quindi tutte le membre le membra come cosa con naturale dovevano sentire gli effetti del male del loro capo vedi dunque che quando una mia volontà è espressa attenzione voluta e comandata il peccato è più grave e le conseguenze sono irrimediabili e solo la mia stessa volontà divina può riparare ad un tanto male come successe ad Adam poi commenteremo tutte queste cose invece quando non è espressa sebbene la creatura è in dovere di pregarmi per conoscere la mia volontà nel suo operato e se dentro il suo atto c'entra un bene la pura gloria mia ma se non è espressa non è così grave il male ed è più facile trovare rimedio e questo lo faccio a ciascuna creatura per provare la loro fedeltà e anche per mettere al sicuro l'amore che dicono di volermi chi è che non vuole essere sicuro di un potere che acquista tanto che giunge a fare le scritture chi è che non vuole essere sicuro della fedeltà di un amico della lealtà vera di un servo non deve essere sicuro faccio conoscere che voglio i piccoli sacrifici i quali porteranno loro tutti i beni la santità e realizzeranno lo scopo per cui furono creati invece se saranno resti tutto sarà sconvolto in loro e tutti i mali piomberanno loro addosso però attenzione non fare la mia volontà è sempre un male più o meno grave a seconda della conoscenza che di essa si possiede ecco allora qui dobbiamo fare una seconda pausa santamente meditativa no? allora Luisa chiede ma se Adamo che una volta si è sottratta la dina volontà è presentato così in basso e noi che purtroppo ne combiniamo tutti i colori non diamo a fini e qui Gesù spiega la gravità di quello che ha fatto Adamo e anche il concetto che ho già accennato della gravità di quando si va contro una volontà espressa dice Gesù voluta e comandata ora Adamo era stato detto chiaramente tu puoi mangiare di tutti gli alberi del giardino meno che dell'albero della conoscenza del bene e del male perché quando ne mangi certamente moriresti sappiamo la storia del racconto della genesi che quell'albero era lettante che poi arrivava del serpente che gli era del frutto proibito attenzione questo frutto proibito non pensiamo alla mela mozzicata della apple d'accordo non è cioè stapor a mela ecco vi ricordo sempre io sono d'accordissimo con questa cosa anche se è un'ipotesi teologica ma che fin dai tempi della migliore patristica si pensava che il peccato originale fosse stato la come dire l'introduzione della riproduzione sessuata tra i membri della razza umana cosa che avrebbe dovuto rimanere relegata agli animali di razza non spirituale diciamo così quindi il signore aveva dato certamente altrimenti non ci sarebbe stata possibile nessuna prova all'uomo e alla donna la possibilità di introdurre questo tipo di realtà nella sfera umana ma non avrebbero dovuto farlo questa era la prova e questo era anche il piccolo sacrificio dice piccolo sacrificio vivere senza sesso ecco cioè noi oggi lo consideriamo un sacrificio disumano cioè io sinceramente non tanto d'accordo però a quanto pare insomma in questo mondo pare che non si possa campare senza questo però dobbiamo considerare una cosa che dove colpisce di più il peccato originale e questa dottrina della chiesa anche per chi non crede che questo potrebbe essere stato il peccato originale è la concupiscenza punto per cui adesso la concupiscenza è una scheggia impazzita per cui saperla controllare e dominare ci vuole la mano di Dio e ci vuole la grazia d'accordo domanda però io faccio sempre proprio queste domande no per far capire ma per la Madonna conservarsi vergine è stato tutto sto gran sacrificio non conoscere la per Gesù avanti è stato tutto sto gran sacrificio cioè per una natura integra cosa ci immaginiamo che ti dice la coscienza non sta troppo a pensare secondo te è stato un gran sacrificio si è si è si però dopo devi anche un attimo motivarlo poi questo questo si no ecco no che non lo è stato quindi anche perché quando uno non conosce capite la cosa che è quando uno conosce cioè una un bambino che non sa neanche cosa sia uno stimolo carnale che fa fatica a rimanere vergine no non fa nessuna fatica perché non sa neanche che cos'è capite noi anche quelli che per grazia di Dio rimangono vergini quindi che non attivano le potenzialità però quando si diventa grandicelli maschietti e femminucce noi avvertiamo certi stimoli per cui non abbiamo l'ignoranza assoluta e quindi siamo tentati dal di dentro no quindi è diverso ecco però per Adamo questo era un piccolo sacrificio piccolo sacrificio e Dio questo piccolo sacrificio lo chiede ad Adamo e gli chiede anche a noi i piccoli sacrifici perché perché vuole essere sicuro del suo amore e della sua fedeltà perché l'amore l'amore non può diciamo così dimostrarsi se non si è capace di sacrificarsi di soffrire per chi si ama non è vero quindi diciamo così il signore doveva in un certo senso doveva dargliela questa questa prova questa opportunità però capite attenzione cioè noi adesso non ci rendiamo conto ma mi raccomando non ci mettiamo sul banco non mettiamo Adamo sul banco degli imputati poverino perché poi altrove Gesù dice anche l'abbiamo già visto in puntate precedenti no che questo poverino insomma non 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 si rendeva conto a priori a differenza di Lucifero meno male che non è perché questa è un'avvento umano non è così perfetta dei danni che questo avrebbe comportato del precipizio in cui sarebbe caduto né aveva l'esempio dice Gesù di quelli che hanno fatto della vita uno sfacere insomma che ha anche visto come a finire da schifio la vita di un peccatore questo Adamo non lo poteva vedere d'accordo quindi queste sono circostanze attenuanti certo che uno che ha avuto tutti i beni tante grazie dal Signore e per una sciocchezza perché è una sciocchezza in quello stato le va a perdere tutte e va a precipitare cose in basso è veramente una tragedia insomma ed è una trasgressione formale perché Adamo sapeva che quella cosa non la doveva fare quindi attenzione ciò che Dio richiedeva da lui di fronte ai tanti beni che gratuitamente gli aveva dato era che si privasse di un piccolo un solo frutto tra tutte le cose belle che gli aveva uno capito Adamo avrebbe dovuto sentirsi onorato dice Gesù che il suo creatore voleva essere sicuro dell'amore della sua creatura invece però si accrebbe la colpa tra l'altro perché colui che lo attirò e per suo saccadere non fu un'essere superiore a lui ma un vide serpente il suo capitale nemico e purtroppo essendolo il capo stipite del genere umano la sua caduta ha travolto come cosa con naturale tutti i membri che da quel capo discendono ecco perché poi la chiesa ha insegnato la distinzione tra peccato originale originante così si dice in teologia tecnicamente che è appunto quello commesso dai nostri progenitori e peccato originale originato che è quello che ci viene trasmesso sappiamo che il peccato originale viene trasmesso dice la chiesa per propagazione quando viene concepito nell'atto del concepimento tra le parole del salmo 50 nel peccato mi è concepito mio male capite tutte quante queste che significa questo questa espressione no? credo che abbiamo già fatto questo discorso sul possibile peccato originale anche in questo ciclo di di catechesi no? ricordiamo sempre che perché la Madonna sfuggisse a questa legge Dio è dovuto fare un miracolo perché altrimenti non è possibile che un solo discendente di Adamo sfugga a questa legge non è possibile che la riproduzione come dire sessuata tra gli esseri umani avvenga senza trasmissione della colpa d'origine non è proprio possibile ecco allora quando una volontà adesso veniamo al punto fondamentale è espressa voluta e comandata il peccato è più grave le conseguenze sono irrimediabili era irrimediabile il peccato originale di Adamo era irrimediabile perché se non veniva Gesù Cristo a redimerci non c'era possibilità capite non c'era cioè il cielo era chiuso cioè fino a quando non si è arrivati al sabato santo che Gesù Cristo è disceso negli inferi gli inferi sarebbero quello che noi chiamiamo con termine non biblico il limbo ma nella Bibbia è chiamato gli inferi lo sceol la dimora dei morti e guardate che prima di quell'ora in paradiso non c'era entrato nessuno 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 dice ma Mosè ma Elia ed Enoch non è anche Elia e Enoch perché Elia e Enoch non è scritto da nessuna parte che sono stati assunti in cielo come una Madonna sono stati portati in un luogo misterioso non sono passati per la morte ma nessuno sa dove stanno nessuno ha detto che erano stati portati necessariamente insomma direttamente in paradiso prima di quel giorno nessuno era entrato manco San Giuseppe stava in paradiso prima della della discesa di Gesù manco Mosè d'accordo nel limbo nessuno perché ciò che era stato prodotto da Adamo trattandosi di trasgressione diretta ad una volontà espressa voluta e comandata non si può riparare noi abbiamo un eco di questa cosa in uno dei peccati contro lo Spirito Santo ricordiamo i peccati contro lo Spirito Santo no? spero che il catismo ce lo ricordiamo la disperazione della salvezza e la presunzione di salvarsi senza meriti l'invito della grazia altrui l'impugnazione della verità conosciuta l'ostinazione del peccato e l'impenitenza finale adesso questa non è la sede per fare una catechesi tanto non fatte sulle catechesi dei peccati contro lo Spirito Santo chi gli interessano basta che lo ricerca su youtube e li trova però assomiglia alla fattispecie del peccato originale quale di questi sei l'impugnazione della verità conosciute cioè io so che una cosa è vera ed ogni po' dico mi importa niente io non ci credo più e faccio il contrario questo è un caso ecco perché è un peccato contro lo Spirito Santo perché capite cioè se tu conosci una cosa e fai il contrario non hai una minima circostanza attenuante non hai dici ma sai pensavo di fare bene ho fatto male non me ne rendevo perfettamente conto pensavo fosse una cosa piccola invece una cosa grossa no non c'è niente di tutto questo quindi in un caso del genere solo la mia stessa volontà divina può riparare un tanto male e così è stato perché ci ha voluto che Gesù venisse sulla terra come redentore dopo la colpa d'origine non solo come perfezionatore della razza umana come sarebbe stato se Adamo non avesse peccato allora quando invece la volontà non è espressa e qui veniamo noi e qui c'è anche la risposta a Luisa se non è espressa non è così grave il male ed è più facile trovare rimedio attenzione però dice Gesù la creatura è in dovere di pregarmi per conoscere la mia volontà nel suo operato e se dentro il suo atto c'entra un bene e una gloria 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 quante volte io in tante meditazioni ho detto noi dobbiamo chiederci negli atti che facciamo sto facendo la volontà di Dio è questa la volontà di Dio e diciamo non so rispondere prega al Signore prega ogni giorno che ti dia luce che ti dia la conoscenza per se no ci sciacchiamo la bocca con la divina volontà ma la divina volontà dobbiamo innanzitutto farla e la divina volontà abbraccia tutta la nostra vita tutta tutte le ore 24 tutte le ore 24 faccio un esempio che sicuramente se qualcuno lo sente andiamo a quando dormo si può dormire in tutte le forme in tutti i modi possibili secondo noi se uno vuole fare la divina volontà d'accordo faccio un esempio sarà divina volontà che uno dorme nudo basta non voglio rispondere è una provocazione questa qui sarà divina volontà capito perché dinanzi a quella prendiamo questo atto cosa pensa Dio di questo atto o non gliene importa niente è un atto indifferente come grattarsi la faccia no se io mi gratto un attimo la faccia questo è un atto indifferente oppure pensa bene dice ah hai fatto bene a fare questo oppure pensa male non hai fatto male a fare questo perché sono queste le cose o l'atto è indifferente o l'atto è buono o l'atto è cattivo adesso ripeto ancora una volta qui bisogna sempre procedere con calma quindi senza che vi fasse prendere la psicosi a che ogni cosa uno non si muove farò bene farò male no ecco no però sempre con calma piano piano entrando nell'ottica e noi dobbiamo nelle scelte che facciamo dobbiamo chiederci se stiamo dentro o fuori dalla divina volontà cominciando certamente dalle cose più grandi d'accordo e poi andando avanti piano piano con le cose anche più piccole fino ai minimi dettagli a seconda poi di di quanto vogliamo vivere fusi veramente con la divina volontà ecco e dice Gesù che questo io lo faccio a ciascuna creatura per provare la loro fedeltà e anche per mettere al sicuro l'amore che dicono di voler cioè che lui cerca che noi gli dimostriamo l'amore che gli vogliamo e come facciamo uno ce lo spiega i piccoli sacrifici che offriamo a Gesù allora qui ragazzi noi gli offriamo i sacrifici a Gesù oppure no siamo capaci di rinunciare a qualcosa leggevo guardate poco mentre facevo la lettura spiritoria questa sera prima di cena leggevo un brano dell'ottavo volume oh io più tempo passa più sono un cultore un fan dei primi volumi anche se non ci sono tutte quante queste grandi voli no ma cioè i primi volumi sono veramente incredibili sono belli perché sono profonde c'è un paragrafetto dell'ottavo volume che dice queste parole qui di quante cose l'anima si priva in terra altrettante ne avrà nel cielo sentite che dice Gesù no figlia mia di quante cose l'anima si priva di qua questo è 7 settembre 1908 ottavo volume altrettante di più ne avrà di là in cielo attenzione sì che quanto più è povero in terra tanto più ricco sarà in cielo quanto più privo di gusti di piacere di divertimenti di viaggi di passeggiate in terra e tanti gusti e piacere prenderà in Dio sono parole di Gesù sì che chi lascia terra prende cielo onde segue chi più è disprezzato qui più sarà onorato chi è più piccolo qui più sarà grande in cielo chi è più sottomesso qui più avrà dominio in paradiso ma sentite come conclude eppure dei mortali ma chi è che pensa a privarsi di qualche cosa in terra per averne in cielo eternamente quasi nessuno dice Gesù quasi nessuno è impressionante quasi nessuno cioè non ci credono non ci pensano allora dice Gesù per essere sicuro di te che stai ascoltando questa piccola catechesi di me che sto parlando in primis a me stesso come sempre quando faccio sia catechesi che meditazioni qui nessuno è maestro di nessuno perché qui a questa scuola siamo tutti scolari io in primis questo sia ben chiaro per essere sicuro faccio conoscere che voglio i piccoli voglio i piccoli sacrifici i quali porteranno loro tutti i beni la santità e realizzeranno lo scopo per cui furono creati quindi Gesù gli vuole i sacrifici non state lette e dice ma Gesù non vuole i sacrifici no Gesù li vuole come sacrifici e non solo per la conversione dei peccatori per le anime del purgatorio che per fermare la giustizia di Dio tutto quello che ti pare ma anche perché il tuo amore nei suoi confronti sia solito e dimostrato Gesù vuole essere sicuro che tu lo ami quanto lo ami quanto sai soffrire per lui di quante cose ti sei privare per l'amore suo questo è un discorso che ci piace tanto ma è la verità io racconto sempre insomma da giovane ma questo è normale quando uno è innamorato è normale quando io ero santamente innamorato da giovane dell'amore umano io ero appassionato di calcio ma ero fissato quando ero piccolino avevo la mia squadra del cuore che non dico così abitiamo di fare le commedie perché capite quando si parla della squadra di calcio saltano è come quando si parla di politica saltano tutti gli schemi ecco quindi meglio evitare però cioè io a un certo punto ho comprendito che in alcuni momenti che faccio metto prima la squadra di calcio metto prima vedo la partita mi ha chiesto che vuole stare con me vuole parlare che faccio chi ami di più uno bisogna sacrificarlo chi sacrifico capite quindi questo è proprio parte della dinamica della vita possiamo noi fare le nostre scelte allora Gesù però dice se saranno destia a fare questi sacrifici tutto sarà sconvolto in loro e tutti i mali piomberanno loro addosso attenzione a quando Gesù queste non sono minacce capito cioè dice ah se tu non mi fai tutti i sacrifici che voglio mazzate no cioè teniamo sempre presente io questo sono anni che lo dico seguendo quello che la chiesa insegna anche molto prima di conoscere chi ti divisa cioè siamo noi gli artefici del male capite il male è produzione umana d'accordo produzione umana certo anche produzione diabolica ma il diavolo non può produrre male per gli uomini senza gli uomini d'accordo perché se noi non fossimo peccatori il diavolo non potrebbe nemmeno sfiorarci come disse Gesù prima della passione viene il principe di questo mondo egli non ha nessun potere su di me ma bisogna che io so che il mondo sappia chi è come il padre e faccio ciò che il padre mi ha ordinato cioè il diavolo si è scatenato contro Gesù il giovedì il venerdì santo ezzandogli contro tutti quanti le creature umane che l'hanno storicamente contingentemente massacrato ma questo è stato dovuto a una permissione divina non ha nessun potere su di me ma bisogna che il mondo sappia cioè perché il meccanismo della redenzione è stato consegnare ingiustamente Gesù nelle mani di chi lo ha massacrato essendo innocente ed è proprio perché è stato ucciso un innocente che aveva la dignità di figlio di Dio che tutti i colpevoli invocando il suo nome possono essere liberati questo è il meccanismo della redenzione detto proprio in due parole è questo se saranno quindi resti noi sconvolgeremo tutti e ci faremo piombare addosso tutti i mani mi sono permesso di fare una piccola chiosa una piccola parafrasi a quello che Gesù ha detto in modo tale che sia se possibile più chiaro quindi però non fare la mia volontà è sempre un male sempre non dobbiamo metterci questo qua bene proprio dentro Papa Francesco dice sempre mettetevi bene in testa mettetevi bene questo dobbiamo mettercelo bene in testa non fare la divina volontà è sempre un male più o meno grave a seconda della conoscenza che di essa si possiede ed è un male oggettivo anche quando tu non ne sei per niente consapevole che stai uscendo dalla volontà di Dio ecco perché dobbiamo evangelizzare ecco perché dobbiamo predicare ecco perché dobbiamo formare informare capito perché se una persona come dire sta facendo dei peccati molto gravi e non lo sa non pecca formalmente come dice Sant'Alfonso quindi quello in teoria cioè capito non ha perso la grazia ma in pratica sta producendo una montagna di letame che incessante anche se non lo sa quell'etame anzitutto gli casca addosso a lui oltre che intorno e fuori di lui ma il primo a esserne travolto è il peccatore stesso quindi vediamo come questi scritti benedetti come dire raggiungono proprio la quinta essenza dell'autentica rivelazione cristiana fatta proprio e custodita e trasmessa dalla chiesa cattolica quindi figlioli miei cari siamo fatti questo questa bella full immersion questa sera bene usciamo forse con le ossa un pochino rotte però salutarmente rotte in vista di un bene sempre maggiore teniamo presente non fare la divina volontà è sempre fabbricare male potremmo anche chiamare questa la fabbrica del male dov'è è dentro di noi purtroppo la fabbrica del male purtroppo fabbricare il male vuol dire uscire formalmente da quello che Dio vuole abbiamo visto quello che è successo con Adamo abbiamo visto che è successo quando ci si mette proprio di fronte quindi contrastando una divina volontà espressa conosciuta e comandata vede Dio ci scampi da questa orribile shakura ecco che mai accade alla nostra vita preghiamo sempre di poterla conoscere la divina volontà e preghiamo il Signore di concedere la grazia di mai uscire o d'opporsi alla sua volontà espressa voluta e comandata ci diamo appuntamento carissimi alla prossima settimana vi do la mia benedizione ancora a tutti una santa notte ave Maria di conoscere di conoscere